Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer e benvenuti in questo nuovo video di Assassin's Creed 4 Black Flag Ci stiamo avvicinando a un forte templare, quindi oggi ragazzi annienteremo, distruggeremo, sgretoleremo Cioè quanti sinonimi qui uno dopo l'altro, come dice un forte templare Vi mostro un po' la posizione, questo qui, non so se è forte, se è debole Seranilla, ottieni denaro alto, quindi suppongo appunto sia un forte come si deve, bello forte Un forte forte, oh mio dio Non lo vedo tra l'altro, c'è un po' di nebbia qui, cos'è questa? No, questa è una nave, non credo dobbiamo attaccare una nave Nel frattempo la nostra di nave se ne va proprio in un'altra zona, cambia rotta Io direi di attaccare anche usando leggermente i mortai, anche non leggermente Più accattivativamente si può dire in italiano, non lo so Comunque non importa, qui il concetto è semplicemente attaccare il forte nemico E addentrarci per appunto distruggere qualunque cosa si muova a schermo Ecco, diciamo, il concetto è questo Non so se quelle navi, ora che sto attaccando, mi attaccheranno a loro volta Il mortaio qui nel frattempo, eccolo È bello vasto, diciamo, il campo in cui attacca il mortaio Vediamo un po', se riusciamo velocemente ad abbattere le difese Ecco, in questo modo magari Se riesce anche la mia nave a fermarsi un attimino, così posso, come si deve attaccare Ecco, andiamo così Sbam Annientato, eh Bro, mi dispiace che io poi parlo col forte Non so se avete inteso ciò che sto facendo Ancora spariamo Y Questo è bello forte, ragazzi Questo non cade, eh Guardate, ha voglia di colpire Ancora, vai Vai che prima o poi devi cadere, bro Mi dispiace, ma Sei sconfitto ormai Vai, colpi potenti Può servire con i colpi potenti? Assolutamente no Cos'è, sto impattando contro qui gli scogli Attenzione Ancora i colpi, su Ok, sconfitto, sconfitto, dai Mancano sette difese No, 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 gira, gira intorno, bro Gira, gira Ok, lo sto continuando ad attaccare il forte Tra l'altro mi sta davvero distruggendo Pensavo di riuscire ad abbatterlo davvero in poco tempo Ma purtroppo non è così Quindi è davvero un osso duro Ma tranquilli Non ci faremo abbattere così facilmente Da un semplice forte Che poi tanto forte non credo che sia Ok, forse un po' sì Perché appunto ci sta distruggendo Ma tranquilli Riusciremo appunto ad abbatterlo Mancano ormai pochissime difese Attenzione, manca l'ultima difesa Vediamo se riusciamo ad abbatterla col mortaio Credo di sì, almeno spero Abbattuto Benissimo Ma in pezzi Quindi dobbiamo raggiungere appunto l'entrata O meglio la zona da cui possiamo accedere al forte Introduciti nel forte Bene, siamo arrivati all'entrata Attenzione, fermati bro Fermati, altrimenti non vorrei che Si distruggesse tutto qui Bene Stiamo arrivando, bros Arriviamo Metteremo a ferro e fuoco Che cavolo combini Edward Ok, ci siamo Bros Vediamo un po' qui Quali sono gli obiettivi Oh cavolo Qua esplode tutto Facciamo attenzione Vai, vai Su, 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 su Mamma mia Uccidi gli ufficiali del forte Mamma mia Ne sono tre Cavolo Qua va tutto a fuoco Ok, non so proprio in che direzione Appunto dirigermi Eccone l'A1 Eccolo, 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 eccolo Non mi vede, non mi vede No, sta fuggendo No, no, ti prendo bro Ti prendo Ti prendo Stolto che non sei altro Ti prendo No, chi è? Lasciami stare Mannaggia, adesso vi sparo tutti Che cavolo ha combinato? Mio Dio Aspetta, uccidiamo costruito Ormai è già a terra No Mannaggia, ha ucciso un altro Non è possibile C'è una bomba qui Aglio Ok È caduto anche lui a terra Ma non è possibile Che non vuole proprio morire Sto tipo Giù dalla scogliera Ti lancio No Giù dalla scogliera Ce l'ho fatta L'ho lanciato giù dalla scogliera Vaffanculo Stupido che non sei altro Rompi la difesa Mamma mia Un calcione come si deve È giù anche tu dalla scogliera? No Ma cosa? No Pensavo stessi cadendo io Meno male che era il nemico Va Aspetta Direi che è il caso a questo punto Di allontanarci E di salire nella zona qui Soprelevata Anche per raggiungere Il nemico Eccolo là Sei mio Sei mio No Non è mio Mamma mia Lui attacca subito Ma anche noi Non siamo da meno Sei morto Bene ragazzi Fuori due Manca il terzo Per cui facciamo molta attenzione Manca poco ormai Uccidiamo costui Così random Rompi la difesa La rompiamo Attenzione A terra Mamma mia Ho scansato questo tipo Che voleva farci fuori Ecco qua Tre di fila Anzi Quattro di fila Anzi no Benissimo Eliminato anche lui E raggiungiamo Il terzo ed ultimo ufficiale del pot Eccolo là Fa pinta di nulla lui Attacca A te la prima mossa Sei morto Eliminato Bene Raggiungi il gabinetto di guerra Quindi Ah ora vi arrendete eh Vi arrendete stolti Ricarichiamo un po' L'arma così Dimostriamo loro Cos'è la vera paura Stolto Chiamami Joseph Il misericordioso Perché ti risparmierò Ok dopo sta stronzata Possiamo anche raggiungere Il gabinetto Che poi mi dà Non so Una sensazione di bagno Non so perché Raggiungi Sto arrivando Bene Un bel calcione alla porta E vediamo chi c'è all'interno Sbam Ok Ti dico subito Le mie condizioni Dammi tutto il denaro Che c'è qui su E queste mappe nautiche E forse Ma dico forse Ti risparmiano la vita Ti do tre secondi Uno Due Tre Ok Evidentemente Non ci siamo capiti Devo ripetertelo Ok non mi sembri un tipo Molto ferrato Quindi mi dispiace Ma sei morto Bross approfitto Di questa piccola scena In intermezzo Per dirvi che oggi Alle 17.30 Ci sarà un piccolo vlog In cui vi farò Un annuncio importante Riguardo un wall true Che arriverà sul canale Quindi mi raccomando Non perdetevelo Bene ragazzi A quanto pare Qui una zona della mappa Diventa così Liberata dal controllo Dei templari Quindi forse è meglio così Spero che questo video Vi sia piaciuto Vi ricordo di lasciare Un mi piace Un commento Di iscrivervi al canale Nel caso in cui Non state già iscritti Se volete che conquisti Altri forti Oppure magari Se volete vedere Delle battaglie navali Me lo fate sapere Qui giù nei commenti Come detto poco fa Noi ci vediamo Oggi pomeriggio Alle 17.30 Col vlog Quindi vi saluto E alla prossima Ciao E alla prossima Noi ci vediamo Ciao Grazie a tutti